Vi auguro una buona giornata ed estendo un benvenuto a tutti voi e vi ringrazio sia in nome mio ma anche della Gerardi per il tempo che ci dedicherete per questa presentazione. Quest'anno in realtà più che parlarvi di un singolo prodotto o solo delle nostre novità che abbiamo introdotto a catalogo cercheremo di presentarvi e portare la vostra attenzione più che altro un concetto che noi sta a cuore e cioè quello della modularità, la modularità applicata che sicuramente è l'elemento che più contraddistingue la Gerardi e che nel tempo sicuramente ha dato successo e lustro a questa azienda proprio perché 50 anni fa tutto è partito da questa intuizione e quindi in questo momento dato che proprio quest'anno compiamo i 50 anni di attività volevamo rendere omaggio partendo da quello che ci ha fatto conoscere di più nel mondo. Sicuramente nel tempo abbiamo conservato la nostra capacità di personalizzare articoli ed attrezzature proprio in base alle richieste del cliente proponendo delle soluzioni personalizzate che è una capacità rara nel settore ma tipica delle ditte artigianali italiane. E tutto questo nonostante la forte crescita che c'è stata negli ultimi dieci anni. Quindi arriviamo a che cosa? Che in Gerardi il modulare e lo speciale si fondono, si integrano dando proprio origine a soluzioni moderne, personalizzate e che hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale. Ma allo stesso tempo siamo in grado di garantire delle assistenze rapide ed economico non solo per gli articoli che abbiamo attualmente a catalogo ma anche per quelli che abbiamo venduto parecchi anni fa. Quindi anche per articoli che non sono più in produzione riusciamo a garantire sia l'assistenza che la ricambistica e questo sicuramente fa la differenza rispetto ai nostri competitor. Per cui quello che vogliamo mettere in evidenza è che il nostro non è un modulare sempre semplice, standardizzato o sempre uguale. E' sicuramente un modulare fortemente personalizzato ed evoluto perché in pratica offriamo delle soluzioni che si adattano perfettamente a quelle che sono le esigenze del cliente. In base alle loro richieste progettiamo, studiamo e realizziamo ad hoc quella che è la nostra attrezzatura piuttosto che anche quelli che sono ad esempio gli accessori. Quindi che si tratti di ganache speciali, che si tratti di piastre oppure predisposizione per il lavoro non presidiato siamo in grado di fare tutto questo e quindi realizzare su misura un prodotto che sia fatto appositamente per il cliente sia per incontrare le sue necessità ma anche per risolvere le problematiche che si possono avere in produzione. E ad oggi dopo aver accumulato questa esperienza negli anni sicuramente Gerardi vanta un catalogo con un sistema modulare di serraggio che sicuramente farà i più completi a livello mondiale. Infatti abbiamo un'ampia gamma di porta pezzi e pallet per macchine orizzontali ma anche di zero point singoli doppio piastre a cambio rapido per il posizionamento preciso dei pezzi e che consentono sicuramente di azzerare i tempi di allestimento della macchina. Tutto questo ci ha portato a realizzare delle attrezzature di presa pezzo chiave in mano per qualsiasi tipo di macchina e sicuramente in tutto questo l'evoluzione va sicuramente avanti. L'obiettivo che un po' abbiamo tutti è quello di continuare a svilupparci ed evolverci e quindi sicuramente presenteremo anche delle novità. Adesso faremo una rapida carrellata di quelle che sono le novità 2021 che tra l'altro abbiamo anche portato in fiera per avere degli approfondimenti visto che il tempo è quello che è quello che ci consente di fare giusto fare una cena a queste novità. Vi invitiamo comunque al nostro stand al padiglione 2D02 dove potremo approfondire se siete interessati a conoscere meglio questi prodotti. Questa è per quanto riguarda appunto la parte del nostro catalogo del work holding dove abbiamo diversi prodotti che vedremo nel dettaglio. A partire appunto dal nostro mandrino autocentrante. In realtà è una novità in quanto ampliamento della nostra gamma più che novità per una nuova tecnologia. Perché in effetti i mandrini autocentrante li conosciamo, già esistono, ma quando abbiamo pensato di produrli anche noi e poterli fornire avevamo delle idee ben precise. E cioè innanzitutto che fosse 100% made in Italy, che avesse una doppia guida, quindi anche per differenziarci un po' dai vari competitor che principalmente lo costruiscono in singola guida e che desse appunto un qualcosa di più al cliente. Quindi abbiamo delle componentistiche per quanto riguarda le parti interne e le griffe che sono in acciaio cementato, temperato e rettificato. E tutto questo dà sicuramente una maggior stabilità, di una maggior precisione. E sicuri della qualità del nostro prodotto, anche in questo caso diamo la garanzia di 5 anni. Quali sono i vantaggi, venendo all'atto pratico, del doppia guida rispetto al singola guida? Innanzitutto le due scalanature di scorrimento sulle griffe consentono sicuramente di sopportare dei lavori più gravosi e garantire una maggiore stabilità. Inoltre sempre la doppia guida garantisce un'usura minore degli organi rotanti, grazie proprio ad un sistema che effettivamente è più preciso. Proprio perché le varie forze, le varie leve giochi vengono spalmati su due guide anziché su una singola guida. E inoltre la doppia guida rispetto a quella singola dà una maggior distanza rispetto al piano di lavoro, garantendo così l'ortogonalità con il corpo del mandrino e riduce gli errori di inclinazione, per cui anche in produzione garantisce delle tolleranze migliori. Anche in questo caso, ripeto, diamo una garanzia di 5 anni, ogni automandrino viene singolarmente testato, collaudato e rilasciamo appunto nella fornitura anche il certificato di collaudo con la sua garanzia. Altra novità, i gripper. Questa è una neonata collaborazione appunto con il marchio giapponese conosciutissimo della Kitagawa ed è già sinonimo di standard qualitativi altissimi. Hanno sicuramente anche un nuovo design che permette di proteggere maggiormente dei truccioli durante la rivolazione e quindi hanno bisogno di una minor manutenzione. Il corpo è fatto in alluminio, quindi è un corpo leggero, compatto, ma allo stesso tempo è anche rigido. Inoltre questo design così innovativo consente anche un montaggio semplificato proprio perché gli ingombri sono ridotti. Anche qua abbiamo cercato di semplificare i vantaggi che si possono avere a partire dalle ganasce che sono in un acciaio nitrurato e che offrono un'elevata resistenza all'usura. Come vi anticipavo prima invece il corpo è in alluminio, quindi più leggero, ma allo stesso tempo dà un'elevata rigidità. Il design in questa conformazione riduce il numero di parti, di conseguenza diventa anche un prodotto sicuramente più affidabile. E all'interno abbiamo un meccanismo con un cugno di spinta che è ad alta efficienza, garantendo così una presa salda sul pezzo. Altra novità, maxi grip per quanto riguarda le morse. Questo è un mashup tra le nostre compact grip e le nostre morse FMS proprio perché abbiamo tre serraggi in uno, singolo, doppio e autocentrante con una massima stabilità di serraggio, più versatilità appunto grazie a queste tre configurazioni di utilizzo e una veloce trasformazione dal serraggio singolo al doppio e come lo stesso succede per le altre due morse menzionate prima sicuramente sono ideali per le macchine dai tre a cinque assi. hanno la massima compatibilità con i nostri zero point e con i sistemi di cambio pallet già esistenti sul mercato inserti grip intercambiabili, ne sono diversi perché ognuno si adatta ad un tipo differente di lavorazione quindi i dentini sono anche diversi in base al tipo di materiale che l'utilizzatore lavora e inoltre abbiamo la possibilità di serrare due particolari anche se di diverse dimensioni tra di loro e anche in questo caso, come su tutte le morse, diamo i cinque anni di garanzia se volete approfondire meglio e anche vederla dal vivo appunto è presente nel nostro stand e vi sapremo spiegare anche ulteriori vantaggi quello che sicuramente più di tutte possiamo dire sinonimo di modularità è la nostra multi grip perché effettivamente ha una configurazione potremmo dire illimitata perché ti permette di avere singoli pezzi modulari e puoi lavorare pezzi sia di piccole dimensioni ma anche di grandi dimensioni che sono delle lastre oppure se hai bisogno di ganasce che abbiano una corsa più lunga e quindi qualsiasi forma o dimensione abbiano i particolari da lavorare sicuramente questa morsa è ideale in questo caso appunto è un sistema di serraggio completamente modulare come dicevo adatto alle lavorazioni di lastre e particolare di grandi dimensioni sono differenti le tipologie disponibili con altezze e lunghezze diverse con la particolarità della corsa di serraggio espandibile anche in questo caso un'ampia gamma di ganasce intercambiabili con la possibilità del serraggio singolo o multiplo di pezzi di qualsiasi forma che siano cubici, tondi o asimmetrici infine per quanto riguarda la parte del tooling ci sono delle novità per quanto riguarda delle test in realtà sono più delle gambe che si vanno ad aggiungere a quelle che già abbiamo quindi più vicine alle nostre tradizionali testi angolari e abbiamo in questo caso la mini, la slim e le extended sicuramente la mini e la slim sono quelle che maggiormente potremmo dire che si somigliano perché vanno a lavorare laddove gli ingombri sono ridotti quindi abbiamo la testa mini con il manipolo tra l'altro firmato Nakanishi che è adatto per lavorazione di sbavatura, svasatura, foratura e fresatura leggera così in realtà come anche la slim e pensate che partiamo da un diametro utensile dell'1,6 mm mentre per quanto riguarda la slim ha una tecnologia diversa internamente perché grazie alla cascata di ingranaggi a denti dritti possiamo noi modulare la lunghezza per cui se c'è bisogno di entrare in gombri piccoli e lavorare magari ad una certa distanza possiamo decidere a che lunghezza appunto apportarla infatti abbiamo già delle dimensioni a catalogo diverse per poter espandere la nostra lavorazione all'interno ad esempio di un foro dopodiché la testa extended ovviamente non per ingombri minimi più che altro la possibilità di raggiungere profondità di lavorazioni maggiori grazie alla torretta riportata che ha diverse lunghezze disponibili a catalogo ne abbiamo già inserite 4 con un utile di 240 mm e poi ce ne sono diverse quindi in conclusione cosa abbiamo? abbiamo un modulare evoluto con delle componentistiche speciali che creano l'attrezzatura ideale perché è affidabile, riconfigurabile con delle parti di ricambio sempre disponibili e sicuramente di alta qualità ed economica quindi in conclusione il nostro invito è quello sicuramente di continuare a scegliere Gerardi per essere anche voi con noi beneficiari della modularità applicata grazie grazie a tutti grazie a tutti